Ma se il serpente non mangia il topo, poi si può ricongelare? No, in quel caso va buttato. È sbagliato ricongelarlo perché è come ricongelare la carne al nostro consumo. E' una cosa che non si fa perché fa perdere le qualità al topo e soprattutto potrebbe far male al serpente, dato che potrebbe essere già in stato di decomposizione.